Torna nella città di Teramo, possiamo dire che parte, questa edizione parte in qualche modo dalla città di Teramo perché il chilometro zero in qualche modo è proprio nel territorio del comune di Teramo. La città di Teramo è pronta ad ospitare questa partenza, sarà una festa dello sport cittadino, avremo tantissime aree della nostra città occupate da questa invasione rosa e in qualche modo cercheremo di organizzarci al meglio per far vivere soprattutto ai più piccoli, alle famiglie, questo momento importantissimo di sport. È una domenica quindi sarà anche un'occasione di grandissima visibilità per la città di Teramo, abbiamo sfruttato tutti i canali disponibili da parte di RCS, il soggetto organizzatore del Giro d'Italia per promuovere anche la città di Teramo, il turismo, la tradizione, l'enogastronomia, quindi è l'ennesima occasione di cui possiamo farci, ecco, far tesoro per promuovere la nostra città e la nostra bellezza. Il programma è un programma veramente misto tra manifestazioni sportive, manifestazioni musicali, intrattenimenti per bambini, c'è uno spettacolo in particolare, un programma in particolare quello del FRU, del Festival delle Radio Universitarie che è molto molto importante con tantissimi ospiti nazionali, tutte le radio più importanti d'Italia e anche concerti, tornerà a Teramo Cristina d'Avena il 5 di maggio, venerdì in Piazza Martiri della Libertà e quindi cercheremo in qualche modo, insieme a tutte le altre gare che portano sempre il nome di Aspettando il Giro d'Italia a Teramo, cercheremo in qualche modo di creare tutte le condizioni per veramente vivere questa giornata del 7 come come una festa, come giusto che sia. Il Comitato di Tappa è costituito da enti promozionali sportivi ma soprattutto dal Comune di Teramo, la Diocesi di Teramo Atri, l'Università, Sport e Salute, il CONI e chiaramente il CSI, la AXI, la WISP e la Federazione Ciclistica Italiana, la FIS. Quindi tutti i soggetti che si occupano di ciclismo sul territorio e tutte le istituzioni che in qualche modo hanno un ruolo diretto con la manifestazione, la curia perché ci sarà anche la messa del ciclista proprio alle 9 e mezza del 7 maggio con una delegazione di ciclisti anche del Giro d'Italia. Quindi ringrazio anche il Vescovo per questa opportunità che impreziosisce ancora di più la nostra tappa.